Perchè me ne fatto? Perchè me ne fatto? Perchè lascio? Vediamo perché? Ti dico io perché? Che mi sono rotto le palle, io ho rotto mie balle, di tante cose qui vaticano che non mi stanno più bene. Innanzitutto, tutta questa gente, domenica mattina che urla come fosse nati, io domenica faccio mia colazione con pezzi di pane raffermano in caffè latte, che mi piace tanto, siccome tutti gli altri giorni di settimana mi devo festire come pagliaccio con le cappette rosse che sembo cappuccette rosse, la domenica mi concedo la mia vestaglia bianca, rilassante e riposante, e quando sento la gente che fa boato fuori di finestra ogni santa domenica, mi prende colpo, mi va per traverso caffè latte e mi sprodulo tutto sul vestaglio bianco, e io domenica non posso fare bucato? Non posso accendere la lavatrice perché non ho sottoscritto il maledetto contratto di fascia economica con Enel, va bene?